Ciao a tutti ragazzi ed eccoci nella terza parte di proseguimento della nostra presentazione. Ok, perfetto. Abbiamo detto appunto che stiamo costruendo un rapido inverter, anche se non è la parola esatta, ok, chiamarlo inverter, bene, con due appunto trasformatori di potenza, ok, ANC, cioè nucleo ferromagnetico, l'amerini ferro silicio, va bene, a parte questo. Ok, bene, il ramo del 24 volt entra poi nel secondo trasformatore collegato al contrario, ok, 24 volt di 250 volt ampere, perfetto, bene, entra dentro nel secondo collegato al contrario e in uscita poi abbiamo la nostra tensione, ok, che però saremo ben distanti dal 230 volt, cioè corrente classica della rete di casa, ok. Ecco, adesso poi il massimo lo guarderemo poi. Adesso, se non ricordo male, la tensione di uscita dovrebbe essere sui 145 volt, ok, per cui appunto siamo ben distanti ancora dal 230 di casa. Bene, perfetto, vi è detto tutto quanto, ok. Allora, abbiamo già montato il nostro porta lampadine, ok, perché qui andremo a provare quattro diversi carichi, ok, e come primo carico appunto un motore, un motore classico degli aspirapolveri, ok, leggiamo un attimino, ok, 240 volt, bene, classe E, chi se ne frega, è a 50 Hz la frequenza, perfetto, perché la frequenza è una cosa molto importante, no, perché la frequenza automaticamente determina il corretto funzionamento degli utilizzatori. Se la frequenza è sballata può creare i problemi poi che si ripercuotono sull'utilizzatore e quindi è estremamente importante. Infatti noi abbiamo un vantaggio di avere la frequenza esatta a 50 Hz, però siamo più bassi in tensione e vabbè, vabbè, tanto noi ci servirà semplicemente il nostro rapido inverte per provare dei carichi come test, ok, e sappiamo che quel carico funziona e in caso di cortocircuito, in caso di guasto, automaticamente il nostro trasformatore non creerà problemi e non farà saltare la luce. Bene, cosa che non è mai simpatica, soprattutto quando usiamo la rete. Vabbè, comunque sì, allora abbiamo il nostro motore, questo qui di solito è su 70 W, all'incirca 60-70 W, anche se non sembra, ok, vediamo appunto il motore centrifuga, ok, tipico appunto degli aspilapolveri, per cui abbiamo un discreto carico, perfetto. Poi abbiamo una lampadina classica, affilamento tungsteno incandescenza, ormai sono diventati reperti vintage. Bene, perfetto, eccolo l'affilamento classica, passo grande ovviamente, 27, non so se si legge, perché il vetro è trasparente, 60 W, ok. Un'altra lampadina proprio a LED uguale, identica, proprio a palloncino come quella da 60 W, con i LED tubolari, questi qua sono i LED tubolari, ok, che si usano adesso, è un classico neon o CFL, o lampada fluorescente, ma non mi piace chiamare la lampada fluorescente, mi piace sempre chiamarli neon, ok, da, se non sbaglio, dove è andato a finire, l'ho perso, ho perso, ok, lo ha, 23 W, da 50 W, da 60 W, vabbè, chi se ne frega, bene, perfetto, per cui, come prima cosa proviamo le nostre lampadine, ok, iniziamo col nostro tubo, sì, tubo, adesso è diventato un tubo, lampada risparmio energetico, perfetto, ecco qua che si accende, per cui, primo test è andato, e la nostra lampadina neon si accende alla perfezione, perché la frequenza, la frequenza appunto è 50 Hz, per cui il circuito funziona con l'esatta frequenza, siamo solo bassa in tensione, qui la camera non dà l'idea, e non dando l'idea automaticamente, possiamo vedere, nel neon è un po' più difficile, perché tanto comunque il gas si scade in pochi millesimi di secondo e raggiunge lo stadio massimo di luminosità, però io lo sto vedendo automaticamente, e posso dire che la luminosità non raggiunge la massima, cioè non raggiunge appunto la massima luminosità, perché? Perché la tensione d'ingresso, abbiamo detto che siamo più bassi, siamo sui 145 V, e mentre invece va la nostra classica lampada, tensione di rete 230, bene, perfetto, ok, possiamo toglierla, e il primo carico funziona, nel caso io avessi il neon, che non so se funziona, se si accende, sappiamo che si accende, poi, lampadina passo E27, che stu, sono tutti a passo E27, cioè passo grande, da non confondersi con le 40 appunto delle lampadine a scarica, delle lampade a scarica, ecco qua, questo qua, posso dire, comunque dovrebbe dare l'idea, che si accende alla perfezione, la luminosità è esattamente come la luminosità di quando io l'attacco alla rete 230 di casa, uguale identica, spero che dia l'idea, perché non è facile attraverso la fotocamera, ok, perfetto, non si scada chiaramente perché sono delle, e adesso andiamo invece a un carico un po' più pesante, lampadina incandescenza da 60 W, e qui la luminosità è un po' più bassa, ed automaticamente qui capiamo subito che la corrente in uscita non è così elevata, elevata sì, l'accende la lampada, ma non è così elevata, ok, bene, però comunque si accende, perfetto, e scotta anche, questo effetto gelo, e adesso per ultimo proviamo il nostro amico motore, ok, ecco qua con i nostri morsetti, perfetto, ci attacchiamo, tappatevi le orecchie ragazzi, perché fa un po' rumore, inizia a girare il piano, e via via sempre più veloce, stiamo in silenzio, vai! Direi che si è sentito abbastanza, mi ha già sfracassato i timpani, e chiudi un po' il becco, perfetto ragazzi, niente, abbiamo testato tutti i nostri carichi, perfetto, ecco una cosa da dire, una cosa da dire, il primo trasformatore, quando è tutto a vuoto, cioè non c'è nessun carico applicato, ok, il primo trasformatore si surriscalla notevolmente, perché è come se fosse uno è a vuoto, ma non è esatto dire a vuoto, perché ha un secondo trasformatore da alimentare, e quindi automaticamente ha un avvolgimento, il quale automaticamente prende la tensione del primo trasformatore, e per cui come se avessi un carico, un carico teorico però, un carico però che produce appunto automaticamente delle perdite, sia nel nucleo magnetico, sia nell'avvolgimenti, e vale sia per un trasformatore, sia per il trasformatore primario, ok? Bene ragazzi, spero che anche questa presentazione vi sia piaciuta, se avete domande non c'è nessun problema, io vi rispondo come sempre, no? E buona costruzione a tutti quanti, mi raccomando, attenzione alla rete, anche perché non sono 230, ma 145 volt in alternata, con la frequenza bassa, cioè sempre a 50 Hz, si sentono e fanno un bel male, ed è comunque sempre pericoloso, ok ragazzi, buon accrocco, perché questo è un accrocco orrendo, ovviamente, ma in assenza del trasformatore di isolamento, ok, possiamo usare questi due trasformatori, se ce li abbiamo, se non ce ne abbiamo neanche questo, ci attacchiamo, ok ragazzi, ok, ciao a tutti, buona costruzione, e se avete domande, appunto, come se trovate tutto sempre nel fantastico mondo dell'elettronica, ok, ciao a tutti!